Riccardo Tosin ha firmato il secondo trofeo città di Montevarchi riservato agli elite e gli under 23, vero e proprio antipasto del Giro del Casentino. La corsa è stata organizzata dalla Fracor International, presenti 140 corridori al via. Un dato significativo per quanto riguarda le strade della provincia di Arezzo, la media generale ha sfiorato i 45 chilometri all'ora nonostante il pomeriggio affoso e il grande caldo. Il veneto Tosin, Vicentino, si è reso protagonista di un'azione a lunga gittata insieme a regnanti e tonti con il gruppo che non ha capito all'inizio cosa volessero fare. I tre hanno insistito nella loro azione e hanno preso un buon margine al punto che poi Tosin ha avuto la gamba per staccare tutti. Infatti degli ultimi chilometri la fatica iniziava a farsi sentire. Prima si staccava l'atleta della Maltinti Lampadari Regnanti e poi di riflesso anche Tonti perdeva contatto. Tosin restava solo soletto e negli ultimi dieci chilometri ha incrementato il suo vantaggio considerando che il finale riservava anche un tratto di strada sterrato che poteva nascondere altre insidie. Una volta rimasto da solo Tosin ha gestito con grande tempismo il suo vantaggio imprimendo un colpo di pedale molto deciso e alla fine è arrivato tra gli applausi dei tifosi presenti al traguardo. In queste ultime settimane la gamba c'era e siamo tornati da Livigno circa un mese fa quindi a condizione diciamo che era al top e le ultime quattro corse sono sempre stato in fuga e ho sempre avuto sfortuna non è mai arrivata sono sempre state squadre che piuttosto di perderla ci correvano contro quindi dai oggi sono super contento.